siamo di fronte a un termitaio guardate che colonia di formiche sono formiche alate hanno radunato tutta questa serie di piccoli aghi di abete e ne hanno fatto questo mucchio immenso sono utili e comunque non sono nocivi tutt'altro sono degli spazzini del bosco comunque si trovano ai piedi di questi giganteschi abeti pensate a quanto hanno durato fatica per costruire questo cumulo di aghi